In Regione oggi c'è stato l'incontro con due marchigiani molto noti al mondo dello sport e non solo, alla ribalta nelle pagine sportive degli ultimi giorni, Davide Mazzanti e Fabrizio Pasquali. Raduce dal Giappone, il primo è l'allenatore della Nazionale di Volley Femminile che ha vinto l'Argento, mentre il secondo è l'arbitro della finale dei campionati del mondo maschili 2018. Noi poniamo una grandissima attenzione allo sport e oggi lo possiamo rappresentare in tutte le forme, ma è attraverso la figura dell'allenatore e la figura dell'arbitro. È un segno di una regione che crede tantissimo nello sport come fattore di crescita, di sviluppo per i ragazzi, per il mantenimento della salute e ogni occasione deve essere utilizzata al meglio per lanciare messaggi positivi alle persone su questa grande opportunità che ognuno di noi ha nella vita attraverso lo sport. Lo facciamo grazie a figure che con il loro impegno e la loro capacità sono manifestate ai massimi livelli e anche noi siamo orgogliosi di loro, la regione Marche è orgogliosa di loro. Il volley nelle Marche al top è con 16.300 praticanti, di cui 10.153 sono donne. Davide Mazzanti è il commissario tecnico della Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo. Il coach è nato a Fano il 15 ottobre del 1976. È stato tutto una sorpresa perché come ho detto più volte dal Giappone era tutto un po' più avattato e Marotta mi ha un po' così portato fuori strada perché credevo che questo entusiasmo fosse un po' legato al posto dove ero nato. Invece poi ho visto che era una cosa che aveva investito tutti e quindi poi vabbè Marotta adesso mi sta celebrando in un modo incredibile, sono felicissimo, orgoglioso, però devo dire che la cosa più sorprendente è il fatto che dal bambino fino alla signora che ne aveva messo la palla a volo sono tutti entusiasti, emozionati da quello che abbiamo fatto. Credo che l'incontro con il Presidente sia stata una delle cose più emozionanti della mia vita per quello che riguarda ovviamente fuori dall'arrivo di mia figlia perché parlare di valori per me che mi ritengo un allenatore, un semplice allenatore parlare di valori legati a una nazione e essere riconosciuti come ambasciatori di questo è stata una cosa che mi ha spiazzato perché credevo che la palla a volo fosse qualcosa per qualche appassionato, qualche parente che ti vuole bene e invece poi è stata una cosa in cui il paese si è riconosciuto e quindi è stato un motivo di orgoglio e una cosa che ancora mi spiazza. Fabrizio Pasquali ha diretto in tutti i continenti le più importanti manifestazioni di volley sia a livello di nazionali che di club. Classe 67 di Ascoli Piceno è stato nominato nell'ultimo Consiglio federale nuovo responsabile arbitri Serie A. L'emozione è stata tantissima perché poi non l'ho realizzata appieno ancora perché insomma ho smesso da poco ma in quel frangente in particolare in occasione della finale è chiaro che almeno per i primi 5-6 minuti mi è passato un po' tutto il mondo avanti. L'emozione grande di rappresentare con grande orgoglio fra l'altro il nostro territorio perché averlo fatto davvero in tutti i continenti, averlo fatto anche dando il massimo, poi sono gli altri che dovranno dire anche qualitativamente come è stato questo mio impegno. È stato qualcosa di incredibile perché se me l'avessero detto quando ho iniziato che dalla mia palestrina di Ascoli sarei arrivato realmente sul tetto del mondo credo che magari avrei dato del pazzo a qui mi avrebbe pronosticato questa cosa.